Ben trovati in aggiornamento con il TGD3B, cambi all'asset barico in questo fine settimana sull'Europa, non più aria gelida che come un misere da Scandinavia è entrata nel cuore del Mediterraneo, questa volta invece una zona di bassa pressione più ad ovest dell'Italia tra Spagna e Portogallo richiamerà correnti temperate dal Mediterraneo verso le nostre regioni con un sensibile aumento delle temperature specie da domenica. Ecco di fatti la zona di bassa pressione nel weekend tra Francia e Spagna, correnti umide che penalizzeranno nella giornata di sabato tutto il nord ovest, anche Toscana settentrionale e parte di Veneto, improvvisi piovaschi, meglio altrove. Invece domenica solo Piemonte, Valle d'Aosta, pioggia altrove. Sarà una giornata bella, anzi bella soleggiata al centro-sud con le temperature fino a 26 gradi sul lato tirrenico, domenica in aumento anche sul nord-est, ci attendiamo i 25 gradi a Bologna. Nuova settimana, lunedì, bello, soleggiato e clima molto mite, poi per il primo maggio dovrebbe arrivare questa perturbazione da ovest. Tutti i dettagli precisi, gli ulteriori approfondimenti scaricando l'app di Trabi Meteo.